E' il territorio compreso tra le province di Messina e di Ragusa quello maggiormente a rischio, stando all'allerta meteo diramata ieri dal Dipartimento regionale della Protezione Civile, con codice di preallarme arancione, e valido fino alle 24 di questa sera. Il rischio meteo idrogeologico e idraulico potrebbe comportare la presenza di forti precipitazioni a carattere temporalesco, miste a forti raffiche di vento ed eventuali grandinate, come quella che si è registrata in tarda mattinata a Monte Rosso-Almo, nonché mareggiate lungo le coste esposte. Alto il rischio allagamenti, a partire soprattutto dal primo pomeriggio, quando il meteo dovrebbe peggiorare ulteriormente. La situazione aggiornata ad oggi è meno critica di quello che sembrava dovesse essere, afferma l'architetto Di Martino, responsabile della Protezione Civile per il Comune di Ragusa. L'apice della pericolosità dovrebbe registrarsi comunque nel tardo pomeriggio. E ancora, in vita alla prudenza, bisogna fare attenzione soprattutto nelle aree soggette ad allagamenti, come ad esempio le bretelle di Viale delle Americhe e la zona della Sacra Famiglia nella città capoluogo. E sulla provinciale per Marina di Ragusa. Particolare attenzione quindi va prestata nei centri abitati e nelle zone costiere, a partire da Pozzallo, dove l'ondata di maltempo dovrebbe essere più violenta, e nelle aree dove sono presenti i bacini fluviali. Si invita la popolazione alla massima cautela.